Ciao ragazzi e ragazzi eccoci finalmente arrivati con una nuovissima puntata di VIPissima, la vostra rubrica di gossip spicciolo mondiale preferita Nata da una costola del vostro ben amato e più famoso tubissima La vostra rubrica di gossip spicciolo youtubiano preferita Allora, questa settimana si parte col botto Perché ho saltato l'altra settimana di VIPissima ma c'era troppe cose da fare Però, però ci sono tantissimi gossip di cui parlare Quindi io direi, bando alle ciance, ciancio alle bande Di iniziare subito, però prima vi dico di andare a seguirmi su Instagram Perché adesso c'è una funzione nuova, tipo fammi delle domande Ogni tanto io pubblicherò nelle stories questo fammi delle domande E risponderò a tutte le domande che mi fate Poi le riunisco tutte insieme e ci farò il video che caricherò nell'IGTV Lì, IGTV E così le potete andare a vedere, insomma No, no, si perpetta un po' di tempo Dato che poi, come ben sapete, da agosto A parte l'ultima puntata di Temptation Island Non farò più video Così almeno possiamo sempre rimanere in contatto in qualche modo Comunque, iniziamo perché Queste settimane, in questi giorni Ci sono state un monte di cose Un monte di proposte d'amore O di proposte di matrimonio Per esempio Justin Bieber si sposa, ragazzi Justin Bieber sta insieme da qualche mese A Hailey Baldwin Ex di Shawn Mendes, comunque E si dice che le abbia chiesto di sposarlo Con un anello enormissimamente Ora se lo trovo su Google ve lo lascio anche qui Così lo possiamo vedere Se no, chi se ne fotte E lei pare che abbia detto di sì Fatto sta che io a questa notizia Sono rimasto tipo un po' OMG, davvero? Che cazzo stai dicendo? Perché ero rimasto che stava insieme a Selena Gomez Per l'ennesima volta Insomma, mi ero perso che si erano lasciati E detto questo Come avranno preso questa notizia Gli ex dei due fortunelli? Selena Gomez si fa vedere su Instagram Ovviamente sempre sorridente Qualche amico dice Ormai le è passata Ha capito che Justin non fa per lei E' contenta per lui Altri invece dicono Sta malissimo Perché non riesce a capire Come sia possibile Che qualche mese fa Lui si diceva Super mega innamorato pazzo di lei E adesso si sposa con un'altra Io credo più a quest'altro amico Spifferone Gli amici spifferoni anonimi Delle star Sono stupendi Perché non sono amici Però, vabbè Io credo più a lui Perché anche io ci rimarrei male Cazzo Sono stato anni e anni Con uno Tira e molla Tira e molla Tira e molla Qualche mese fa Due mesi fa Diciamo Ci lasciamo E questo in due mesi Si risposa con un'altra Cosa? No Sposa me Stronzo Invece Show Mendes L'ex di Hayley Appunto Dice Sempre gli amici di amici Dicono che lui Ha preso la notizia Del matrimonio Tramite i giornali E che In realtà C'è rimasto un po' così Però è contento Per lei Per la sua ex E trova Justin e Hayley Una bellissima coppia Bravo Show Mendes Show Mendes Devo dire È un ragazzo Che Cioè nonostante il successo A 19 anni 20 anni Quanti anni ha Travolgente Mondiale Non si è montato la testa Non ha mai fatto per adesso Una cavolata Di quelle per di Boh guarda questo qui Che fine fa È sempre stato educato Un bravo ragazzo Insomma mi piace molto Show Mendes Fatto sta Che invece Si dice che Justin Bieber Sia mega Ipergeloso Di Show Mendes E abbia Obbligato Chiesto Obbligato A Hayley Di cancellare Per esempio Su Instagram Ogni traccia Possibile Immaginaria Di Show Mendes Perché non lo vuole più vedere Nella vita di lei Lo inviteranno Al matrimonio A questi punti Penso proprio di no Altra richiesta Di matrimonio 16 Arianna Grande E Pete Davidson Allora io lì Sono rimasto Un po' Possibile Allora lo conosci Da un mese Com'è possibile Che già Siete super Mega Innamorati Da chiedervi Addirittura La mano Per sposarvi È una cosa Assurda Bon per lei Allora io amo Arianna Grande Lo sapete Andate a vedere Il nuovo video God is a woman Ovviamente che è una bomba E L'amo Però non capisco Queste mattate Cioè è un mese Che furia avete Siete giovani Conoscetevi Boh non lo so Un anno almeno Prima di sposarvi Anche perché Arianna Grande Se poi Divorziate Gli devi dare Metà del tuo patrimonio Perché te sei la più ricca Dei due Penso Cioè spero Per lei Quindi un attimo Tutta questa Fobia Fobia no Tutta questa mania Nello sposarsi Palle Vivete la vostra vita Poi comunque Se però Sono contenti così Io non posso far altro Che essere contento Anch'io per loro Quindi in bocca al lupo Per tutto Spero di essere invitato Al matrimonio Cambiamo totalmente Argomento E andiamo a parlare Di Kylie Jenner Perché È stata eletta Da Forbes La più ricca Ragazza Imprenditrice Fatta da sola Self made Come si dice Self made Qualcosa del genere Teenager D'America Allora Io ho visto tipo Al telegiornale La notizia E Ha guadagnato In due anni Novecento milioni Di dollari OMG E la maggior parte Di questi Di questi guadagni Oltre che Dalle foto sponsorizzate Su Instagram Derivano Dalla sua linea Di cosmetici Cioè Vi rendete conto Lei Vabbè che già Il nome Della famiglia Ti porta Una grandissima Botta di culo Diciamocela La verità Però cazzo Hai vent'anni Ventun'anni Quanti ne hai? Novecento milioni Di dollari Bon per lei Mamma diosa Te ne fai Tutti quei sordi Fammi una donazione Tanto c'è il link qui PayPal me Kylie Donami Bo Anche un milioncino E basta Mezzo milione Un ticchiello Tanto di novecento milioni Mezzo milione Cioè Formichina Tostacche La vera notizia Di cui vi volevo parlare Di lei È che Ha pubblicato Delle nuove foto Su Instagram In cui si vede Che non ha più Il filler Alle labbra OMG Si è tolta Tutto il coso Che c'aveva qui Non ha più Le labbrone E Quello che mi sono domandato io È Tutte le varie Hit girls Del mondo Che sono Andate dal chirurgo A dire Voglio le labbra Come Kylie Perché vanno di moda Le labbra Come Kylie Adesso Si saranno suicidate Come fanno Si correranno dal chirurgo A togliersi tutti Il filler Fino a quando Lei non dirà Adesso Le tette Devano essere Tre Non più due Così tutte Andranno a farsi Tre tette Dove andremo a finire Ultima notizia Arriviamo In Italia Vi ricordate Di Paola Di Benedetto Quella Che ha fatto L'isola dei famosi L'ex Di Matteo Del grande fratello Di quest'anno Di Barbara D'Urso L'ex Ormai Di Francesco Monte Che ha conosciuto All'isola dei famosi Ma che la loro storia D'amore Durata tipo Un mese Perché Francesco Monte L'ha mandata a cagare Perché non l'amava Perché pensava sempre A Cecilia Rodriguez Vi ricordate di lei Che ha fatto Madre Natura In Ciao Darwin Ebbene sì Sembrerebbe Anzi io ne sono certo Però Sembrerebbe Che adesso Stia insieme A Federico Del duo Benji e Fede Perché Perché La domenica Mi lasci sempre Sola Per andare A vedere La partita Come mai Non lo so Perché sono conosciuti Però insomma Se le stanno passando Un po' tutte Diciamo sì Sono uscite delle foto In cui appunto Erano atteggiamenti Un po' intimi E Adesso Addirittura Sia lei Che lui Che l'altro Perché Benji e Fede Ormai sono una cosa sola Hanno dichiarato Che Si frequentano già Da qualche tempo Si sono nascosti Un pochino Perché volevano andare A vedere un po' Dove Andavano a parare Ma adesso Non si nasconderanno più E la loro storia La vivranno Alla luce del sole Bravi Complimenti Vi adoro Bravissimi Bravissimi Sono contento Speriamo Che almeno Questa volta Paola Tu l'abbia Fatta bene Nel senso Ora Io non voglio Ritorna qui Tra un mese Se è lasciata Ora Questo Tienitelo un pochino Un po' Un annetto Fatevi qualche copertina Lui ti Ti dedicherà Ti dedicherà Ti dedicherà Qualche canzone Insomma Farete un po' Qualche cosa così No Insomma Mi raccomando Basta che non vi chiedete La mano Non vi sposate anche voi Perché se no Non ne posso più Di questi matrimoni Un nostro ordine Per andare a partecipare A matrimoni di tutti Ne devo scegliere uno Insomma Ragazzi Ragazzi Spero che questi gossip Vi siano piaciuti Ovviamente Ora tocca a voi Vi voglio qua sotto Nei commenti Scalmanati Come sempre Per commentare Le notizie E fatemi sapere Quello che pensate Di tutto questo Se siete contenti Per i vari matrimoni Se siete sbalurditi Come me Per i 900 milioni Di dollari Che ha Kylie Jenner Se ne volete Un po' Anche voi E ditemi Tutto quello Che volete Ovviamente Io vi auguro Una bellissima settimana Nuova All'insegna del trash Vi ricordo sempre Perché c'è il temptation island Adoro Sto volando Mettete like A questo video Condividetelo Con chi volete Vi ricordo Il mio instagram Come sempre Isma91 E iscrivetevi Al mio canale Che io Vi amo E vi seguo Vi guardo Vi parlo Vi leggo Faccio tutto Quello che volete A parte fare l'amore Perché quello no E basta Cazzate Basta Ci vediamo Al prossimo video Ciao Oh wow